Ciao a tutti, sono Claudia Vazzana e frequento il liceo scientifico Leonardo da Vinci. Già da tanto tempo che volevo donare, perché anche mia sorella fa parte dell'Avis, quindi ho sfruttato questa occasione per iscrivermi e per donare. Oggi ti seguiamo, vediamo un po' come va questa tua prima volta. Va bene, va bene, speriamo bene. Sono un po' preoccupata, però penso che sia un semplice prelievo, diciamo, quindi non c'è niente di cui preoccuparsi. Gruppo Avis accucciato qui. Siamo morendo, stiamo qua freddissimo. Donatevelo in sede, qua no, fa freddo. Della verità che sta bene. Ecco, Lorenzo lo sai che sei prima. Primo strato è così. Fa caldo, fa caldo. Farò una visita accurata, raccogliono i dati anamnestici e se tutto andrà bene, la signorina donerà per la prima volta. Bene, forza Claudia! Ce la farò! Allora, l'idoneità è fatta, adesso bisogna battere il freddo. Eh, mamma veramente, ho le mani congelate. Buon diii! Sono sempre io, il vostro nano preferito! Hai visto chi ti ho portato questa mattina? Bella ragazza! Brava ragazza! E' volenterosa! Oggi dovrei stare a riposo, riposo, tanta acqua, niente sforzi, di nessun genere Da domani puoi ricominciare a fare tutto quello che facevi prima E uno, e due, e tre, hai fatto male? No, non so Tutto questo era... Ho fatto male, è stato brutto? No Sconvolgente No Però sei sicura di essere nata il 22 giugno del 2017? Oh, il 1912 Al giorno d'oggi che... Già finito Non è male Il vicino di poltrona di Claudio, si chiama? Yuri Yuri, come va? Bene, bene Finito? Sì, sì Tranquillo Tranquillo La raccomando Come mai hai scelto di fare questo gesto? Perché è un bel gesto, aiutare il prossimo è questo Pure le pulizie per Roberto Lei? Io sono un tipo molto eclettico, faccio tutto Ce l'hai fatta? Sì, sì, fatto Benissimo E adesso sai cosa ti aspetta? Mangiare È andato tutto bene Pensavo, non ho fatto per niente male Tranquillissimo Si fanno rilassare Scherzano Quindi anche una bella atmosfera Molto bene Sono molto contenta di questa donazione È un bellissimo gesto, secondo me Un atto che dimostra l'umanità La solidarietà Io l'ho fatta, vuoi farlo anche tu